ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo su sheltered 2 o sheltered 2 l'uno lo hanno recentemente regalato sull'epic store e il 2 esce il 21 di settembre non so ancora dirvi il prezzo perché lo sto provando prima del rilascio per questo ringrazio gli ancube studios e il team 7 team 17 digital per avermi permesso di avere una copia del gioco in anticipo ultimamente sta diventando difficile reperire qualche gioco e sono onorato di aver avuto questo titolo è un survival dove costruiamo le nostre basi sottoterra dove dobbiamo sopravvivere non lo ammetto approfondito più di tanto l'uno ma questo vi posso dire che è un pochino più profondo soprattutto un po più bello graficamente non c'è ancora l'italiano io presumo arriverà perché è arrivato anche nel primo capitolo tra l'altro primo lo avevo preso anche per mobile disponibile anche per i vari telefoni seguendo la mia nuova linea diciamo editoriale tra virgolette ho deciso di non presentarvi un classico gameplay che porterebbe chiunque mostrandovi l'inizio del gioco ma vi mostro già una fase non proprio avanzata però diciamo subito post tutorial e così vi spiego anche un pochino come funziona il titolo ho creato il mio avatar e il mio avatar può avere delle statistiche che adesso vi mostro adesso scusate metto in pausa questa è la mappa di gioco con il nostro rifugio premendo buzz ci muoviamo mentre premendo appunto wps ci muoviamo in alto in basso cosa molto bella qua sopra poi il terreno poi si allarga in modo da poter interagire con le varie cose e abbiamo diverse cose qua stiamo coltivando i broccoli qua è un collettore dell'acqua questo è un depuratore dell'acqua e quindi qui reperiamo il cibo e all'interno dei vari armadietti abbiamo scatole di cibo poi possiamo andare anche a piazzare trappole all'esterno come vediamo qua in questo caso ci sono pile di legna e altre cose che possiamo cliccandoci sopra andare a recuperare e salvaggiare cosa che facciamo immediatamente i personaggi sono tre come vi dicevo indie che sono io tra l'altro mi somiglia anche un po e timothy e eduard ognuno di loro ha delle statistiche precise abbiamo il mood la possibilità di vedere il suo morale con il commento possiamo vedere i suoi desideri mangiare carne con riso un pasto con riso scusate lavorare abbiamo le statistiche queste sono le statistiche abbiamo un tot di punti all'inizio li possiamo distribuire lui ha forza 2 destrezza 4 intelligenza 4 carisma 1 percezione 4 fortitude 3 la cosa importante che salta subito all'occhio che vi dice il tutorial è che la persona che ha più intelligenza crea degli oggetti più belli cioè più che altro più resistenti di qualità superiore e la forza invece è utile per andare all'esterno per andare in mondi diciamo in terreni lontani poi abbiamo un po come abbiamo già visto in project zomboid un tot di punti se non ne ricordo male 5 e possiamo usarli per spend per acquistare se riprendo il mio personaggio che vedete che no adesso non ha ve li faccio vedere adesso le skill scusate sono queste no queste sono le skill no non sono queste insomma più saliamo di livello più abbiamo possibilità di avere delle cose in più io intendevo un'altra cosa non quelle skill lì ma vabbè qua vabbè le relazioni quanto sono questa una conoscenza e con timoti invece è un amico perché probabilmente ci ho fatto un viaggio prima adesso vi farò vedere comunque potete piazzare dei talenti diciamo e questi talenti ah ok questi talenti hanno dei punti positivi e negativi voi avete 5 punti quindi se comprate un talento da 5 punti non ne avete più quindi dovete prendere magari dei talenti negativi e a quel punto non riuscite a prendervi quelli positivi insomma qua in alto poi vedete la clipboard dove possiamo andare a scegliere quali di questi bisogni dal bere il mangiare andare in bagno dormire e doccia farsi una doccia lavarsi può essere gestita in modo automatico significa che se io metto il rosso quando arriverà a livelli critici l'intelligenza artificiale manderà in automatico a dormire a bere a bagno a lavarsi se lo mettiamo invece cliccandoci due volte diventerà giallo e giallo al 50 per cento quindi una cosa un pochino più sicura ora vi mostro come funziona il tutto in questo caso noi abbiamo un tavolo da lavoro adesso io clicco su di me a freddo c'è una stufa possiamo andare a no una stufa però qua ci possiamo cucinare no se io clicco su uno di questi tavoli al momento ne ho tre ho la workbench ho il drafting table e la stufa in pessime condizioni se io clicco su craft object con il destro mi si apre questo pannello che in realtà poi mi lascia accedere anche agli altri tavoli che ho a disposizione in casa e praticamente abbiamo delle ricette che possiamo fare quelle che volete con la spunta vuol dire che le possiamo fare perché possediamo già i materiali questo è un elemento questo oggetto nello specifico la dirt room è un elemento molto importante perché ci permette di ampliare la nostra base questa invece è una tomba diciamo e ce la fa piazzare qua in pratica proprio dovremmo fare le scale per far comunicare i vari piani possiamo fare le lanterne premendo questo tasto qui vediamo la room information cioè due gradi e mezzo e un grado e nove sopra quindi fa freddo diciamo che fa freddo come fare a sbloccare adesso poi abbiamo un glossario enorme che ci permette di capire un tutorial immenso sul gioco ci spiega tutto come possiamo fare per sbloccare quelle che vedevamo nel tier 2 cioè che non vediamo perché non riusciamo a cedere ecco tutto gira intorno ai goal questo è il nostro la nostra faction banner la bandiera che adesso qua non vediamo però abbiamo questi obiettivi cioè io sto iniziando col building 101 cioè craftare queste ricette il letto il toilet la toilet il bagno il cesso che ho già fatto una stufa e una stanza e mi manca la doccia e quindi io adesso dovrei fare la doccia a quel punto potrò craftare il tier 2 dal drafting table mentre quando avrò craftato un totale di 25 oggetti potrò fare il tier 2 anche dalla workbench quindi al momento io solo di questo tavolo quando avrò fatto il bagno la doccia potrò farlo qua abbiamo il bagno con un secchio niente di che possiamo forzare i personaggi ad usarlo o meno per fare la doccia io adesso vado qui e vedo che per fare la makeshift make shift shower mi serve del legno e delle pipe dei tubi come fare a recuperarli beh in questo caso prendo il mio personaggio lo mando qua e gli faccio fare un setup di spedizione quindi possiamo scegliere i nostri personaggi prendo edward prendo indie possiamo scelitare da uno all'altro però quel membro lì è troppo stanco mi porto questo ognuno ha il suo attacco le sue utility i suoi bisogni scelti i personaggi andiamo a prendere che cosa dargli come abbiamo questa baseball che però non me la usa allora indie equip questo tu equipi questo ok e poi possiamo scegliere che oggetti portarci e allora scusa mia prendi questo grazie non me la equipa perché probabilmente perché non ho abbastanza statistiche quindi io prendo lui equipa no non me la prende vabbè gliela diamo a lui va e poi ci portiamo qualcosa del cibo magari e basta credo magari poi possiamo vabbè andiamo avanti e qua vediamo la zona possiamo farli viaggiare l'altra volta io sono andato fino al camper qui adesso io li faccio andare di là e vediamo li avvio e loro vanno e se ne vanno uno dei due membri della mia squadra dovrebbe essere troppo stanco per poter proseguire quindi in questo caso vedete loro vanno si allontanano e lui è stanco quindi adesso sta andando a dormire all'interno di questi armadi dei locker possiamo qua personalizzare il nostro personaggio qua invece possiamo vedere quanto abbiamo all'interno se succede qualcosa ai nostri viaggiatori lo vedremo qua loro stanno viaggiando ci metteranno tot ore quindi in questo caso possiamo anche accelerare un pochino il tempo dato che non succede nulla loro sono in viaggio vedete che qua la barra si carica e lui intanto dorme e ci metterà un bel po' allora sono arrivati non trovano niente li sposto nuovamente non lo so adesso non saprei neanche dove mandarli change root li mando lungo la strada la strada è pericolosa no 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 nulla 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 cancella i waypoint vai di qua andate di là no basta perché la rischia è quello che delete waypoint anzi a dire la verità vabbè li mandiamo lì vai conferma li rimandiamo di nuovo tanto l'altro sta dormendo quindi possiamo andare tranquilli dobbiamo recuperare quelle pipes e quelle altre cose quando poi avremo dormito con lui proveremo adesso vediamo ok abbiamo trovato qualcosa change root ma andiamo di là proviamo oh al massimo ricarichiamo non abbiamo più razioni vabbè conferma va andateva un'altra cosa che adesso vi voglio far vedere è che avremo modo di allora intanto acceleriamo il tempo ok c'è un incontro oh cavoli sì perché qui possiamo investigare su una fazione abbiamo incontrato l'old clan e questo è molto importante perché possiamo intrattenere diciamo delle relazioni usando la radio quindi possiamo essere amici o nemici delle varie fazioni commerciale e così via questa è controllata dal vecchio clan non avete diritto di essere qui allora chi sei è un clan ha un profondo rispetto per il passato dobbiamo preservare il più possibile il nostro leader duncan mccroi è il leader più vecchio lavoriamo insieme non siamo ok ok ce ne andiamo via stanno tornando indietro ah ma avevamo fatto questo incontro prima adesso stanno andando avanti e vediamo perché poi ci sono zone da luttare e ecco radio contact aspetta un po' c'è un contatto radio lui adesso appena si sveglia possiamo fare contact faction abbiamo conosciuto l'old clan quindi possiamo fare un trade e possiamo comprare le pipes non ce le hanno mannaggia possiamo no possiamo richiedere un'alleanza ma non si fidano di noi ovviamente possiamo chiedere lavoro quindi possiamo recuperarli in questo caso degli oggetti è l'unico lavoro che possiamo fare per loro ed è l'unico modo per poi incrementare la la fiducia hanno incontrato un un'altra un altro tizio sai dove sei va bene chi sei tu cattura tortura uccidi cattura tortura uccidi e questo questi sono forse ok ok abbiamo conosciuto anche questi altri va bene e adesso andiamo lì cambiamo la route andiamo qua abbiamo conosciuto due membri della fazione andiamo lì li stiamo portando praticamente alla morte però voglio provare questa cosa adesso appena lui finisce di dormire se si degna gli farei fare una prova di crafting ok si è svegliato vediamo se possiamo portarlo a fare qualcosa tipo ci servono pipes abbiamo bisogno di metal shavings quindi in questo caso possiamo andare a prendere nel tavolo recycle item dove possiamo andare a prendere questi oggetti vedete io adesso vado ne creo un po' di questi oggetti e li mando a riciclare quindi lui adesso li riciclerà per me aspetterà un po' intanto qua abbiamo trovato degli oggetti ok stanno cercando quindi avremo un po' di tempo in cui loro stanno lutando aspettiamo e poi torneranno indietro facendosi tutto il viaggio di ritorno spero trovino del cibo perché non ne hanno praticamente più allora adesso abbiamo fatto un po' di quelle cose lì fatemi vedere solo come si faceva la doccia con voleva 4 pipe ok quindi facciamo vediamo se riusciamo a fare le pipe e mannaggia riusciamo a farne una ce ne servono 10 di quelle sharing lì e quei rottami lì va bene ne abbiamo fatto uno 10 quindi no annulla vediamo se riusciamo a farne altre recycle item vediamo dobbiamo farne 10 ah beh ma aspetta aspetta se io butto dentro questo ne ottengo 24 e ne è un bel po' dai ricicla tutto intanto loro hanno finito di là quasi finito ok quindi andiamo a vedere gli item che hanno trovato allora loro trasportavano questo e ovviamente calcolate che il cibo va male più lo tenete al caldo quindi è fighissimo questo è quello che abbiamo noi questo è quello che abbiamo nella farm quindi a questo punto ovviamente questo la tv ci permette di recuperare magari dei circuiti ma a me interessano i due pipe il peso massimo vedete il questo munizioni che sono ottima merce di scambio la lana pesa pochissimo quindi la prendo la gomma ci serve come loro questo cos'è grasso animale interessante un tirapugno assolutamente le lastre pesano un botto una palla da yoga io la prendo si sa mai legno 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 ok siamo quasi pieni mi prendo tutte le cosine piccole adesso ok conferma a questo punto tornate a venire a casa change root tornate a casa conferma speriamo tornino vivi intanto lui sta continuando a lavorare come un pazzo adesso finirà e magari riusciamo anche a conquistare la nostra agoniata doccia perché al momento non possono lavarsi ok quindi mo vai lì ah lui intanto vedete aveva fame è andato si sta facendo il pasto che si merita adesso vediamo se riusciamo a fare le pipe ah ma se ne è fatto uno mannaggia vabbè intanto le pipe adesso arrivano ce le riportano indietro i nostri amici quindi credo che arriveranno ne porta due quindi ne portano due quindi ok returning to shelter sono tornati ok dovrebbero arrivare adesso eccoli lì bellissimi che arrivano con la torcia no non era la torcia era la ok dai take ok abbiamo preso un po' di roba non l'abbiamo svuotata potremmo tornare là ma va bene adesso io prendo lui e vediamo se riesce a craftarmi la doccia adesso no mi serve il wood ma il wood lo puoi fare da qua fuori quindi vi dico vai a salvage va a salveggiare il legno ok questo quanto manca la crescita 97% ho notato che crescono anche piuttosto in fretta i vari legnami quindi meglio così ok mo possiamo fare finalmente la doccia che ci meritiamo quindi prendo la doccia la posiziono qui e gliela faccio costruire qui abbiamo il toilet e qua la doccia quindi a questo punto una volta che lui completerà la doccia in teoria vedete questo logo che io ho scelto perché all'inizio potete scegliere il logo con un'infinità di elementi quindi veramente ricca anche come anche come talenti si fanno belle belle cose questo bisogno di una doccia vedete è già qualche giorno che gioco sono il giorno 3 e sentono finalmente il bisogno della doccia potete andare a far bere ognuno o trasportare acqua ognuno dovrebbe avere un suo bidone questo se si guasta è un problema perché purifica l'acqua poi l'acqua va in automatico qui nei bidoni mentre il generatore vedete che mi fermo ha quasi finito il carburante una volta che finirà il carburante diventerà tutto buio sarà un bel problema il problema un altro problema è quello che qua è freddo qua è più freddo andando più vicini scendendo sotto terra diventa più caldo quindi meglio così però diciamo che non scendere molto ok abbiamo sbloccato dal draft table il tier 2 infatti eccolo qui ci possiamo fare la trappola una serra un istintore una buona tomba un planter dove si piantano le piante meglio di quello che c'è già un'armeria quindi craftare armi un recycler per smontare più agevolmente le cose abbiamo un tavolo un camping stove una stufa un fornello diciamo un po' più bello quindi non è non è male tutto questo mi servirebbe un cake burner che lo faccio immediatamente e voglio prestarlo qui perché questo voglio usarlo per riscaldare un po' l'ambiente al momento c'è solo un letto quindi il povero Windy ha bisogno veramente di di tanto riposo e di una doccia sta messo proprio malissimo sta perdendo vita dovrei mandarlo qui open medicine e vai no voglio capire che cosa in the dark sta andando eh sì ha bisogno di una doccia e ha bisogno di mangiare quindi speriamo riesca ad arrivare alla a mangiare ok sembra già più in posizione retta adesso no dai indie non preoccuparti ti fai fai la doccia dai fatti una doccia vediamo se ti ripigli così con una doccia abbiamo un letto solo un po' quello il problema adesso possiamo anche decidere di prendere il nostro amico che non si toglie mai la maschera antigassa aggiungere legna e accendere il fuoco e quindi andare a scaldare un po' di più li fa acqua calda si vede tutto il popore ma dubito sia calda light burner e vediamo subito se la temperatura va a cambiare si mi da già 8 gradi quindi direi che si sta già meglio ma direi che lo stare bene è un altro discorso si beh dai comunque 9 gradi e 2 dovrebbe in teoria andare anche sopra adesso stanno facendo amicizia perché ovviamente anche quello è una componente importante da tenere in considerazione a breve il carburante finirà si spegneranno tutte le luci in questo caso noi possiamo prendere uno di loro domandare e dirgli aggiungi fuel perché ne abbiamo in inventario ce n'è abbastanza indico sa che problema ha ha bisogno di andare in bagno allora usa bagno no? falla nel secchio qua come vi dicevo possiamo organizzare la spedizione aprire il log delle quest aprire il reclutamento quindi far arrivare altra gente e vedere la mappa che abbiamo esplorato fino a questo momento sopra dovrebbe essere pronto no non ancora 97% quindi tu potresti andare mi sta andando a dormire ma io adesso voglio dargli un altro compito di water plant bagnare le piante perché sono ferme al 97% perché non ho bisogno di acqua quindi in questo caso andiamo e altra cosa qua sopra vedete il meteo il meteo poi tempesta di sabbia prevista per domani 10 gradi è importante perché potete vedere quando pioverà e quindi capire anche quanto qua in alto vedete la quantità d'acqua che avete la quantità di cibo e la quantità di fuel quindi al momento è una buona quantità di cibo non una buona quantità d'acqua ma meglio di nulla sta soffrendo tantissimo perché ha un avvelenamento da cibo lui quindi Indy potresti venire qui no ma chi è che sta male no Indy che non sta bene no vabbè si è ripreso cammina da rito adesso no si sente ok si sente ok è lui che non sta bene ah lui l'avvelenamento da cibo quindi vai qui apri le medicine vediamo se c'è usa questa dovrebbe essere per la nausea dovrebbe passarti tutto sì già meglio sì decisamente sì come vi dicevo poi questo che al momento ci manca perché noi abbiamo il legno ci consente di allargare la base quindi in questo caso possiamo andare a fare dismantle con qualcosa no ho sbagliato recycle prendo le cassette di legno e ne ottengo tre di legno quindi in questo caso vado che cacchio sì 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 va bene non me lo fate scusami ma potresti per favore indi tu che sei l'unico in sagoma qua adesso demolirmi la cassa perché dovete fare attenzione perché se il tavolo è occupato non ve lo fanno non ve lo mette penso neanche in coda quindi bisogna fare attenzione a questo ok vedete adesso posso andare a costruire nuova zona in questo caso si metterà a lavorare alla all'ampliamento della base in questo caso la temperatura dovrebbe essere già precipitata parecchio qua è pronto credo sì quindi tu vieni e raccogli le piante abbiamo raccolto i broccoli posso piantare i semi e li faccio ripiantare di nuovo quindi abbiamo dei broccoli possiamo usare questa stufa per cucinare abbiamo la zuppa di broccoli quindi ci serve acqua e broccoli fanno due sì due per tipo quindi sì lui si starà domandando ma devo fare tutto io sì evidentemente sì cucini e cucini perfetto ora la dispensa dovrebbe avere all'interno anche le due zuppe di broccoli che una è venuta di qualità buona l'altra no quindi per il momento il cibo non va male perché comunque fanfare doccane comunque come avevano confermato le previsioni c'è una tempesta di sabbia quindi non è così sicuro uscire tra poco bisognerà riparare anche il water collector che è al 30% 86 invece il purificatore d'acqua quindi bisogna fare attenzione e soprattutto possiamo andare a contattare le fazioni ne abbiamo conosciute due questi sono proprio bastardelli possiamo commerciare con loro e loro hanno acqua coltelli vediamo un po' request aid eh no non possiamo commerciare possiamo richiedere un lavoro recuperare 5 valvole 10 interruttori 5 lenti la valvola l'ho dovuta fare per craftare la doccia e non credo sia neanche così semplice da fare la valvola è una pipe e una gomma per quello ho preso la gomma perché mi ricordavo che servisse insomma queste sono le basi del gioco ovviamente non ho messo un grande focus su tutte quelle che sono le statistiche e i talenti tuttavia voglio farvi vedere un'ultima cosa in conclusione se siete arrivati fino a questo punto del video siete molto bravi e pazienti perché la media dei minuti visti nei miei video è di 5 minuti quindi non se lo vede mai nessuno abbiamo 25 slot no 30 scusate adesso vi faccio vedere metto un nome a caso per farvi vedere frequenza degli assalti le risorse la difficoltà avete la possibilità di scegliere tutto emblemi colori immagini tutto il nome della fazione prendete il vostro personaggio lo personalizzate come volete uomo donna varie preset di faccia i capelli i vestiti le statistiche come vi dicevo potete selezionarne una aumentare l'altra vi spiega anche che cosa fanno e i tratti i tratti sono come vi dicevo 5 punti sono questi adesso ve li scorro piano così se volete finire un attimino il video all'allentatore per fare un'idea di quello che è tipo killer instinct meno 7 non mi bastano questi punti quindi fa 50% in più di danno ogni con ogni colpo ogni arma e non è male però devo compensare quindi se io me lo prendo devo prendere qualcos'altro di negativo che mi consente poi di riportare il punteggio a 0 o positivo allora ragazzi questo era sheltered 2 fatemi sapere cosa ne pensate purtroppo come vi ho detto non so ancora il prezzo però sembra senz'altro un gioco promettente nulla di nuovo indubbiamente però fatto bene un buon un degno successore del primo sheltered ora spazio a voi attendo i vostri commenti qua sotto alla prossima ragazzi e ciao ciao grazie a tutti